Adesso siedi, cerca una posizione comoda da poter mantenere per qualche minuto e unisci le mani una sul palmo dell'altra, con i pollici uniti, cerca di tenere la schiena dritta con la testa che scarica il suo peso sul collo, sulle spalle, sulla schiena ed infine sul bacino, chiudi gli occhi ed ascolta il tuo respiro, l'aria che entra dal naso riempie dei polmoni, la pancia e poi fuoriesci. Accorgiti del movimento spontaneo del tuo respiro e dello spazio che occupa il tuo corpo. Accorgiti del peso del tuo corpo, dei punti di contatto sul pavimento, sulla sedia, sul tappetino e continua a riportare l'attenzione al tuo respiro ogni volta che puoi. non devi fare nulla, solo osservare ciò che in questo momento si presenta, le sensazioni che emergono, i pensieri, le immagini, le emozioni, quello che c'è. e lentamente, senza giudicarli, lasciali andare. osserva qualsiasi fenomeno o elemento appare alla tua consapevolezza. e senza fare nulla, lascia che si vi possa manifestare così com'è. e poi torna con l'attenzione al tuo respiro, ogni volta che puoi. osserva, accogli e lascia che sia. non c'è nulla da cambiare, non c'è nulla da cambiare. va bene così. osserva, accogli e lascia che sia. sei testimone di te stesso mentre accade. e cerca di sospendere il giudizio, non c'è un'emozione giusta, una sbagliata, un pensiero giusto, uno sbagliato. osserva, accogli con amorevolizza e lascia passare. come i nuvoli nel cielo. un'emozione giusta, un'emozione giusta, un'emozione giusta. si userva, accogli e lascia che sia. Grazie a tutti. Continua ad osservare, ad accogliere e lasciare andare, ancora per qualche minuto. E ogni volta che puoi, torna con l'attenzione al tuo respiro. L'aria che entra dal naso va giù nella pancia e lentamente fuoriesci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.